Un video del settembre 2021, ve lo propongo, anche se l'anno scorso, è sempre bene ricordare, informarsi, divulgare, perché le parole che ascolterete da Enrico Letta rappresentano ciò che poi si è conclamato nel 2022 con gli obblighi vaccinali. Il vaccino è libertà, questa è la sintesi e vi invito appunto a guardare il video che segue, non dico altro per evitare di vedermi censurare il video, buona visione. Il vaccino è libertà, il vaccino è libertà, perché questa parola libertà che è stata usata a sproposito tante troppe volte, il vaccino è libertà di andare a scuola, il vaccino è libertà di lavorare, di guadagnare, il vaccino è libertà di incontrare gli altri, il vaccino è libertà di di viaggiare, il vaccino è libertà di divertirsi, il vaccino è libertà di fare sport, il vaccino è libertà di godersi spettacoli, di godere la ripresa delle attività culturali. Fatemi salutare il nostro Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che è qui con noi oggi. Chi non si vuole vaccinare è contro l'altrui libertà e non può essere premiato. E chi è ambiguo su Green Pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani. e chi è ambiguo contro i Green Pass e le vaccinazioni è contro le imprese, contro i lavoratori, è contro gli imprenditori e contro i lavoratori. È inutile che chi è ambiguo su vaccini e Green Pass poi vada a sfilare davanti alle associazioni di impresa a promettere chissà che cosa. La cosa più importante è questa. E allora noi, noi, con orgoglio, siamo il partito dei lavoratori e degli imprenditori, perché noi siamo sempre stati coerenti sulla cosa più importante di oggi, cioè il vaccino è libertà. È il vaccino che è libertà.